Lotta ancora tra la vita e la morte, Elisa Amendola. La donna, 61enne di Cosenza, accoltellata dal figlio Valentino, 35 anni, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dell'Annunziata, dove i sanitari non disperano di salvarla. Secondo quanto si è appreso, le sue condizioni sarebbero ancora gravi ma stazionarie. Intanto il figlio Valentino, in attesa dell'udienza dal GIP, si trova agli avresti per tentato omicidio. Non ha voluto rispondere alle domande degli inquirenti, né ha spiegato i motivi di questo folle gesto. La tragedia si è consumata nel quartiere popolare di Torre Alta, nei pressi del Tribunale di Via Penebianco, in questa palazzina al numero 5 di Via Lucania. Da tempo le liti si susseguivano tra Elisa ed il figlio Valentino, disoccupato e secondo alcune indiscrezioni caduto nella rete della tossicodipendenza. Le botte erano all'ordine del giorno, tanto che già il 4 marzo scorso si era reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, per calmare gli animi. Fino a quella maledetta notte in cui Valentino, in un raptus di rabbia, ha prima colpito la madre con alcuni pugni diretti al volto, provocando le fratture al cranio, poi ha afferrato un coltello da cucina, sferrando un fendente alla gola. Salvatore Bruno per la Cineuso 24.